Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri, grave lutto e triste coincidenza per il mondo delle serie tv, a 86 anni ci ha lasciato l'attore Ron Masak, lo ricordiamo per aver preso parte a tante serie tv come Ai Confini della Realtà, ma il ruolo che ha consacrato Ron Masak e lo ha reso grande al grande pubblico è stato quello dello sceriffo de La Signora in Giallo, la triste coincidenza come è facilmente intuibile, la scomparsa a soli dieci giorni di distanza dalla perdita davvero grave di Angela Lensbury, scomparsa a sua volta l'11 ottobre 2022, in appena dieci giorni abbiamo perso un pezzo di storia delle serie tv, due grandi protagonisti della Signora in Giallo ci hanno lasciato due eroi dei nostri pomeriggi d'infanzia, il secondo canale di Marco Liguri con grande dispiacere ricorda Ron Masak, storico sceriffo di La Signora in Giallo, scomparso il 21 ottobre.